incidente a fano un uomo muore in sella al suo scooter elezioni amministrative sette comuni voteranno nuovi sindaci scuola al marconi si preparano aule container pesaro ospiterà il campionato mondiale di pesca sportiva big game buonasera e benvenuti al nostro telegiornale telegiornale che questa sera apriamo purtroppo parlando di un altro episodio di sangue sulle strade oggi infatti a fano un uomo è morto in sella al suo scooter 125 scontrandosi violentemente con un audi l'episodio avvenuto attorno alle 13 30 sulla strada comunale del cimitero in prossimità di via campanella un impatto devastante in cui l'uomo del quale non sono state al momento fornite le generalità ha perso la vita sul luogo dell'incidente sul posto oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso anche polizia locale vigili del fuoco per la ricostruzione della dinamica del sinistro ed ora cambiamo argomento e parliamo di elezioni amministrative perché è di nuovo campagna elettorale per sette comuni della provincia di pesaro urbino che il prossimo 3 e 4 ottobre saranno chiamati alle urne per votare altrettanti nuovi sindaci in questo nostro primo servizio andiamo dunque a conoscere chi sono i candidati in lizza è di nuovo campagna elettorale il 3 e 4 ottobre prossimi saranno 180 mila i cittadini marchigiani chiamati alle urne per eleggere 28 nuovi sindaci di altrettanti comuni che cambieranno o confermeranno il loro primo cittadino in provincia di pesaro urbino saranno sette i comuni chiamati a votare con la campagna elettorale che entra nella fase calda visto che lo scorso weekend si è chiusa la possibilità di presentare liste di candidati a sindaco e relativi consigli comunali si voterà innanzitutto nel quarto comune più popoloso della provincia di pesaro urbino quello di mondolfo dove l'attuale sindaco 32enne nicola barbieri concorre per il bis con la lista fare città sfidato danteo bonacorsi che con la lista futura ha raggruppato gran parte delle forze di centro-sinistra sfida intrigante a fossombrone dove il sindaco gabriele bonci ha deciso di non ricandidarsi caldeggiando piuttosto la candidatura dell'attuale assessore gloria mei che dovrà vedersela con le agguerrite avanzate della lista dell'imprenditore massimo berloni e di quella di fabio londèi noto titolare di ristoranti nonché ex sindaco di sant'ippolto e segretario col diretti quarta concorrente in gara elisa cipriani di rifondazione con uniti per fossombrone si vota anche a fermignano dove delfina betonica lancia il guanto di sfida all'attuale sindaco emanuele feduzzi mentre accoglie al metauro si voterà con un anno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista la poltrona di sindaco lasciata anzitempo da stefano aguzzi divenuto assessore regionale sarà infatti ambita dalla lista energia in comune di candio curina ex presidente della comunità montana del metauro e da pietro briganti di insieme per crescere lotta a due anche a mondavio dove si ricandida l'attuale sindaco mirco zenobi per un futuro comune sfidato da girolamo martino con la lista mondavio città nuova il sesto e settimo comune in cui si vota non avrà partita elettorale se non quella con l'affluenza le urne è il caso di gradara dove si ricandida l'attuale sindaco filippo gasperi ma che vede azzerata l'opposizione e si presenterà senza sfidanti idem a mercatino conca dove omar lavanna con la sua mercatino 4.0 viaggia senza avversari verso il suo terzo mandato appuntamento dunque alle urne per domenica 3 e lunedì 4 ottobre per eleggere sindaco e consiglio comunale che resteranno in carica per i prossimi cinque anni l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza al primo turno giornata di rialzo di contagi nella regione marche per quanto riguarda il covid 19 che oggi registrano 207 nuovi casi di covid 19 con una percentuale di positività al tampone che sale in un giorno dal 3 all'8 per cento così come sale a 71 il tasso di incidenza ogni 100.000 abitanti il maggior numero di contagi si registra nella provincia di macerata con 79 casi 33 quelli invece rilevati in provincia di pesaro urbino resta alta l'attenzione sulla pressione ospedaliera con 80 ricoveri nelle marche di cui 20 in terapia intensiva oggi si è registrato anche un decesso si tratta di una donna di 84 anni del maceratese anche oggi torniamo ad occuparci di scuola e in modo particolare di avvicinamento all'inizio del nuovo anno scolastico nello specifico in questo prossimo servizio parliamo di riorganizzazione degli spazi è il caso del liceo scientifico marconi dove si stanno allestendo prefabbricati e container esterni proprio all'istituto per ospitare gli studenti nel rispetto del distanziamento non ci sono solo green pass mascherine e capienza del trasporto a catalizzare l'attenzione sul rientro a scuola del 15 settembre c'è pure la decennale criticità di classi pollaio e carenza di spazi che si è ulteriormente acuita con la pandemia e con le relative raccomandazioni di distanziamento in questi giorni però in alcune scuole superiori provinciali si stanno allestendo aule esterne al consueto perimetro scolastico è il caso del liceo marconi di pesero un istituto che da anni è costantemente in crescita di iscrizioni sempre più difficili da collocare la provincia ha prontato addirittura del container dei prefabbricati diciamo così da adibire ad aule devo dire che stanno lavorando lacrimente sta venendo anche bene il lavoro noi abbiamo quattro aule esterne ci saranno circa per quattro un poco più di un centinaio di studenti container modulare al liceo marconi così come all'istituto celli di piobbico nuove soluzioni realizzabili grazie al finanziamento da quasi mezzo milione di euro che la provincia di pesero urbino ha ottenuto dal ministero dell'istruzione per nolleggi di strutture modulare temporane adattamento a aule didattiche e affitti di nuovi locali in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021 2022 continuiamo a parlare di scuola in questo caso però parliamo di liceo artistico mengaroni dove gli studenti nell'ultimo anno hanno prodotto il progetto di cinema mengaroni visioni a porte aperte realizzando la rassegna ma cos'è questa crisi vediamo di cosa si tratta nell'intervista del professor rossano baronciani il liceo artistico mengaroni ha un indirizzo dedicato agli audiovisivi da noi quindi si studia filmica animazione fotografia l'anno scorso abbiamo realizzato un progetto dedicato proprio al cinema cinema e città mengaroni a porte aperte con in questo progetto i ragazzi si sono cementati con la costruzione di un film realizzato e ideato dagli stessi ragazzi il progetto in realtà è stato più ampio perché si è passati da una fase teorica in cui i nostri studenti e le nostre studentesse hanno avuto modo di conoscere grandi autori del cinema contemporaneo ma anche dello scuolo del secolo scorso si sono confrontati hanno visto film e poi hanno realizzato insieme a mauro santini e tutta una serie di cortometraggi ispirati proprio al loro percorso scolastico ora e oggi noi restituiamo il lavoro dei ragazzi e invitiamo la città ad ascoltare quelle che sono state non solo le loro proposte i percorsi didattici e anche quello che in qualche modo hanno realizzato ma vogliamo proprio condividere con la città quello che il liceo artistico mengaroni fa per questa città cioè realizzare bellezza creare e soprattutto dare unire quella parte di scuola che unisce le conoscenze con le competenze noi speriamo di farcela e oggi vorremmo proprio dirlo a tutta la città è stato firmato oggi un nuovo protocollo d'intesa fra il comune di pesaro e la croce rossa italiana al centro degli obiettivi il contrasto a povertà e fragilità con la promozione di nuove attività finalizzate alla sicurezza e alla inclusione sociale venerdì 17 e sabato 18 settembre a pesaro inaugurerà il fumetti opera festival promosso da comune sistema museo e amat in collaborazione con circolo mengaroni black marmalade records e la libreria il catalogo due giorni di performance disegnate e concerti per un nuovo modo di leggere i fumetti a giorni verranno annunciati gli ospiti di questa prima edizione ultime occasioni per conoscere il progetto rag bull promosso da comune di pesaro e formiche rugby per sensibilizzare e contrastare fenomeni come il body shaming il bullismo e altre forme di discriminazione domani giovedì 9 settembre alle 21 sarà piazza don gaudiano della celletta ad ospitare l'incontro del progetto che da giugno sta coinvolgendo i pesaresi con incontri di formazione e intrattenimento insieme ad atleti tecnici e professionisti del mondo dello sport ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni questo che vedete è il numero di whatsapp al quale mandare foto video o semplici messaggi per segnalarci le cose che non vanno il messaggio di oggi ci arriva da roberta una nostra telespettatrice e che ci invia queste immagini dove denuncia un grave ingestificato abbandono di rifiuti per le strade di villa san martino e mostrando anche come siano stati gettati per strada addirittura poltrone frigoriferi e persino una vasca marche dalla vigna alla tavola il nuovo progetto promosso dalla regione per creare un filo diretto fra 35 cantine regionali e 15 ristoranti che ne valorizzeranno la produzione vinicola un bando che è stato presentato nella sede di conf commercio di pesaro urbino del quale vi mostreremo uno speciale d'approfondimento venerdì 10 alle ore 21 e 40 intanto però vi anticipiamo qualcosa in queste prossime interviste di antonio astuti l'obiettivo è quello di creare cultura e non gastronomica di creare percorsi del vino di creare insomma un forte connubio tra chi fa somministrazione chi produce il nostro straordinario vino abbiamo tanti produttori che stanno cominciando a diventare anche importanti sui mercati ma molto spesso ci accorgiamo che nei ristoranti nei bar negli hotel vengono venduti altri vini ecco io credo che sia opportuno che i nostri bar i nostri ristoranti i nostri vini quando arriva un turista quando arriva un cliente gli propongano i nostri prodotti ma soprattutto gli raccontino un territorio attraverso i vini questo era l'obiettivo l'abbiamo finanziato con grande soddisfazione la giunta acquaroli ha fatto un progetto di promozione che si chiama dalla vigna alla tavola che vede come protagonisti i produttori di vino ma soprattutto per la prima volta con i soldi della promozione agricola siamo riusciti a collegare i ristoranti i bar e gli hotel facendo anche dei pacchetti turistici è andato molto bene perché tutta la regione ha partecipato ci sono progetti ovunque dall'entroterra alla costa quindi è senz'altro un segnale che questo percorso sia è molto positivo e da rilanciare anche per il futuro l'obiettivo è quello di valorizzare le produzioni viti vinicoli i vini della nostra regione coinvolgendo finalmente il mondo della ristorazione che è l'interlocutore principe insomma delle nostre cantine l'associazione dei ristoratori della provincia di peso rubino ha presentato due progetti uno coinvolge 14 15 ristoranti uno 21 sono prevalentemente ristoranti della provincia di peso rubino ma anche di altre alcune di altre province ogni ristorante dal 15 settembre al 31 di dicembre realizzerà una serata una serata con la presenza di almeno una cena con almeno tre cantine con la con menu realizzati con prodotti tipici del territorio la legge regionale espressamente ricorda che devono essere prodotti certificati dopo i gp o presidi slow food quindi una trentina insomma di serate per gustare i prodotti del territorio e far conoscere i vini delle nostre cantine il vino è un prodotto principe della nostra terra il vino rappresenta veramente il territorio noi abbiamo con itinerario di vino che è uno dei due progetti voluto abbinare alla presentazione delle cantine fatte dai sommelier che debbono spiegare l'abbinamento vino cibo e la presentazione delle stesse cantine e dei produttori abbiamo voluto anche abbinare la presentazione del territorio l'obiettivo è quello di fare una grande campagna pubblicitaria a livello interregionale di far conoscere i luoghi dove il vino nasce ed ora spazio agli eventi perché pesaro è pronta ad ospitare il campionato del mondo di pesca sportiva big game un evento internazionale che si terrà nel mare pesarese dal 18 settembre con 16 equipaggi provenienti da 9 nazioni un grande riconoscimento per la città ma anche per il club nautico che organizza l'evento considerando che su 29 edizioni della rassegna è soltanto la seconda volta che il mondiale si disputa in italia vediamo 9 nazioni presenti 16 equipaggi che gareggeranno gareggeranno lunedì 20 settembre la prima volta con una prova ufficiale successivamente tre giorni di gara martedì mercoledì e giovedì la pesca si dedicheranno alla pesca al tonno rosso ogni pesce verrà portato verrà allamato con la canna verrà portato sotto la barca e tramite un'asta misurato in modo tale da fornire un punteggio e un peso tecnico dopodiché il pesce viene liberato e per esperienza vi dico che il pesce vanno via ovviamente affaticati ma vanno via nessun pesce è stato poi ritrovato morto perché seguito a combattimento per cui la pesca al tonno rosso è una pesca contingentata in italia parte il 16 giugno e termina generalmente alla prima settimana di agosto quando si è si raggiunge il peso che ogni ogni giorno ogni ogni barco ogni pescatore deve comunque comunicarlo e far misurare il pesce al rientro in porto farlo misurare dalle organi competenti che è la capitineria la capitineria conseguentemente aggiorna il ministero quando si raggiunge il peso del prelevato dei tonni prelevati la possibilità di catturare tonni termina quindi pesci arrivano via vengono liberati non succede alcun pesce ma possiamo svolgere il campionato del mondo ci permette di svolgere il campionato del mondo no kill il fatto di giocare in casa può essere una percentuale però tutte le nazioni che vengono a partecipare a questo tipo di manifestazione sono agguerrite praticano la stessa pesca che facciamo noi quindi segreti non segreti non sono più per nessuno quindi siamo tutti lo stesso livello poi quello che gioca un po di fortuna come sempre grande orgoglio per la città di pesaro ospitare questo importante campionato del mondo siamo orgogliosi perché abbiamo un impianto sportivo naturale che il mare il club nautico non è la prima volta che ospita dei campionati campionati italiani e quindi sono sempre stati ospitati in modo egregio ringrazio il club nautico i soci e gli sponsor che hanno deciso di sostenere questo importante evento per la nostra città un evento che dà visibilità a tutto l'intero territorio perché i familiari delle persone che poi sono imbarcate per la pesca potranno visitare tutta la nostra provincia si parla insomma di nove nazioni 16 equipaggi sono dei numeri importanti il 19 di settembre alle 17 30 ci sarà la cerimonia di apertura in piazza del popolo quindi invito i cittadini appassionati che hanno voglia di passare un'oretta insieme a noi a venire in piazza del popolo per quella che sarà la cerimonia di apertura un evento che partirà dal giorno dopo e insomma che dire siamo orgogliosi per questo evento che ospiterà la città di pesaro ed ora il nostro marco cadedu ci racconta un'altra impresa sportiva di emanuele gambini come sapete consigliere comunale a pesaro ma anche atleta di successo in questo caso si è laureato campione del mondo di biatol over 50 qui oggi abbiamo l'onore di avere un campione del mondo signori un vero campione del mondo emanuele gambini recentemente si laureato campione del mondo di biatol a weiden in germania ma adesso gli lascio il microfono e lascio a lui il racconto di questa meravigliosa impresa tra l'altro un consigliere comunale signori campione del mondo abbiamo a pesaro sono campione del mondo campione del mondo della mia categoria dei 50 anni ho vinto la mia gara battendo anche tutti i quarantenni che erano presenti in gara in quel momento quindi questo mi dà ancora più orgoglio è una gara che non avevo mai vinto perché si parla di corsa nuoto corsa sono 1200 metri di corsa 100 di nuoto e 1200 di corsa diciamo che venivo dal giorno prima dove avevo avuto una grossa delusione perché ero arrivato quarto in una specialità che mi è più congeniale quella del triatle dove si nuota si corre si spara tant'è che sono campione del mondo sempre master in egitto sono diventato di laser run e quindi ho perso diciamo questa gara ed ero molto deluso e il giorno dopo chiaramente mi sono rifatto alla grande diciamo avevo già vinto la categoria dei quarantenni ho vinto quest'anno quella dei 50 tra un mese c'è l'europeo di barcellona e sarà difficile partecipare perché tutto in mezzo alla settimana io nonostante che faccia sport e sia consigliere comunale comunque è un lavoro faccio l'orafo quindi non so se ho una settimana di ferie per portare partecipare a tutte le gare dell'europeo però adesso sto vedendo insomma di concentrarmi magari sul laser run sul biatle visto l'ultima vittoria poi vediamo a barcellona fine mese la possibilità di andare ecco magari lancio anche qui la richiesta se ci fa avanti qualche sponsor siamo molto 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 felici grazie concludiamo il nostro telegiornale con una notizia riguardante il calcio che riguarda uno dei giocatori calciatori più rappresentativi degli ultimi tre anni di vispesaro il 35enne romano flavio lazzari dopo aver rescisso quest'estate il contratto con la società bianco rossa resta nel calcio provinciale ripartendo dal dilettantismo sarà infatti un nuovo calciatore dell'atletico gallo col bordolo che milita nel campionato di eccellenza siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate su rossini tv perché questa sera in prima serata alle ore 21 e 20 vi facciamo vedere una puntata di white dog una puntata che abbiamo registrato al brillo parlante questo bel locale di musica live a fermignano con i manuel questa band che vi invitiamo a conoscere proprio questa sera vi ricordiamo anche la nostra rassegna stampa perché se non riuscite da lunedì al sabato a vederci in diretta alle 7 e 20 potete farlo in altri orari infatti buongiorno rossini lo trovate alle 8 e 15 alle 11 e 20 alle 12 e 30 alle 14 e anche alle 18 grazie allora per averci seguito anche questa sera adesso per voi il meteo dei prossimi giorni noi invece ci rivediamo domani mattina appunto alle 7 e 20 con la nostra rassegna stampa grazie a tutti